Ha conquistato il voto di molti delusi dei vecchi partiti, in particolare ha convinto tanti giovani avvicinandoli alla politica e così anche in Basilicata il Movimento 5 Stelle ha avuto numerosi consensi ed ha superato il 20% delle preferenze, primeggiando i numerosi comuni lucani sia nel Materano che nel Potentino. E così a rappresentare la Basilicata in Parlamento ci saranno anche i grillini Mirella Agliuzzi alla Camera e Vito Petrucelli al Senato. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini cosa ne pensino dell'importante risultato raggiunto dal Movimento 5 Stelle. E come interpreta invece il voto dei grillini? Secondo lei dove hanno pescato più voti? Beh soprattutto nei giovani, nei giovani e in quelli esodati che non hanno trovato più lavoro, che hanno problemi di sopravvivenza vera e propria. Tra i giovani del Partito Democratico, dai giovani perché sono scontenti chiaramente, stiamo vivendo un'era molto difficile, non c'è lavoro. È un movimento che ha avuto un gran successo, il meglio degli altri, di cui si sia presentato. Secondo me Grillo l'ha preso dappertutto, sia per quanto riguarda l'età e anche per le zone geografiche. Non è quello, il voto l'ha preso perché effettivamente la gente è stanca di tante cose che si ripetono sempre negli anni. Secondo me è questo, quindi non... e poi neanche è vero solo protesta. Cioè è anche proprio dire mettiamoci in campo anche noi, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di positivo. Ora spero ce la possano fare. Posso dire che non ho votato Grillo, solo questo. Diciamo che non rientro nel mio modo di vedere le cose. Incertezze comunque restano per il futuro, ma l'auspicio... Versani dovrebbe chiamare Grillo e stabilire cinque punti, cinque riforme, che è a ingomeggiare dalla legge elettorale, che non va. Perché oggi si hanno due metodi di misura, sia la Camera che il Senato. E questo ha comportato un grosso rischio per la governabilità del paese. Io spero si possa cercare la soluzione, non importa tra chi. Però si possa cercare ed ottenere a più presto la soluzione, perché certamente la posizione di stallo è quella più negativa per un paese, che oltretutto deve riprendersi da una grandissima crisi globale, ma anche interna. Grazie a tutti.